La mia misericordia è infinita. 17 aprile 1977. Figli di Letti, eccomi tra voi. Sono Gesù, misericordia infinita, e vengo a confermarvi la mia volontà di perdono. Non rammaricatevi di non essere vissuti nel tempo in cui io camminavo sulle vie del mondo operando miracoli. Ogni volta che il sacerdote vi assolve dai vostri peccati, si compie un miracolo non diverso da quello della risurrezione di Lazzaro o della guarigione del paralitico. Se a voi sono nascosti i miracoli di grazia che io vado compiendo nel mondo anche a mezzo dei miei ministri, essi sono tuttavia una realtà che nulla ha da invidiare alle guarigioni fisiche più prodigiose. Anche qui vi sono continuamente dispensate grazie su grazie. Io vi ho detto che vi do luce e questa luce divina indica sovente la strada agli erranti, o, ancora, rende a molti la verità più chiara, per cui resta più facile abbandonare il peccato e vivere da buoni cristiani. Chi non ha fede in Dio trasforma ogni cosa in una divinità. Si crea tanti piccoli o grandi idoli per i quali, senza avere nessuna ricompensa, è disposto a soffrire e morire. Io voglio insegnarvi a vivere e a morire per qualche cosa che vale e che vi assicura un premio eterno. Questa luce che io do a coloro che mi amano, rende serena la vita abbandonata nelle mie mani e affidata alla mia custodia. Ma perché superbamente gli uomini così spesso si ribellano a me e rifiutano quel gioco che io rendo soave e quei pesi che io stesso alleggerisco? Venite! Venite figli! Il mio desiderio di perdono coincide con quello di salvezza e di gioia. Ditelo a tutti che nelle acque torbide del mondo non si può aver pace. Venite! Venite! Non è difficile vivere bene. Io non vi avrei imposto delle cose insopportabili. Il Cireneo che mi aiutò a portare la croce non ne sentì il peso e in compenso raggiunse, per questa prestazione, la santità e la gloria. Chi accetta la fede, deve prendere la vita com'è, con tutti gli imprevisti, i limiti e i disagi che l'accompagnano. Se non vi lasciate prendere dallo scoraggiamento, se non cedete alle tentazioni, mi potrete servire ed avere felicità e gioia in qualunque posto vi troviate. Figli, abbiate fede. Io mi servo di voi per comunicare ai fratelli il grande annuncio di risurrezione. Anche allora mi servii di donne, di laici, per comunicare agli apostoli la grande notizia. È vero, inizialmente non furono creduti e anche oggi spesso ci si rifiuta di credere. Agli increduli, oggi, come allora a Tommaso, io dico. Beati coloro che credono senza vedere. La mia misericordia però è infinita e, se chiedo di credere perché si possa beneficiare dei miei doni, io non cesso di perseguitare col mio amore coloro che sono lontani, perché ritornino alla casa paterna, e anche coloro che non sanno riconoscere i segni che io dispenso nella mia chiesa. La mia misericordia deve giungere a tutti e a tutti deve dire. Il Padre vi ama. Riconoscete la vostra miseria e la vostra pochezza e incontrerete un cuore magnanimo che tutto dimentica. Figli, sappiate che i due sacramenti della misericordia sono il battesimo e la penitenza. Se il primo cancella il peccato originale e negli adulti ogni colpa. Il sacramento della penitenza è così grande che è come un lavacro misterioso nel sangue mio. Sappiate usarne bene perché il mio sangue non venga sciupato. Preparatevi al mio perdono con una confessione ben fatta che vi porti a un cambiamento di vita.